Buonasera Vorrei presentarvi un pezzo inizio che non avete visto in televisione che parla di cinema cinema, su me il cinema è una bella forma di comunicazione però a volte è noiosa perché è troppo lunga Allora in questo caso andrò a proporvi dei miei film molto particolari, i miei film sono film in un secondo velocissimo, basta poco? Un secondo, basta poco, basta la fantasia del bambino, un copione, fai di testa tua Ciao, vabbè, ci vediamo domani, vai a comprarti un cervello usato Ok, attenzione, il Titanic, in un secondo, oh cioè, il Titanic, un secondo Secondo film, Torna a casa Alessi, in un secondo, guarda Hai già visto? No, vabbè, torna a casa Alessi, in un secondo, guarda Vai 7.50 Mi stilo Attenzione, terzo film è il mio preferito, te lo dico subito, se la capisci ti capotti Attenzione, questo è bellissimo, è veramente, cioè, non vedo l'ora di farlo io, è troppo bello Terzo film, mamma ho perso l'aereo, guarda, mamma ho perso l'aereo E da, ti ammazzo non capisci, mamma ho perso l'aereo, faccio, in un secondo No, cazzo Fantastico Lo fai sentire, mi stimo e mi incoraggio Attenzione, con il campino, mamma ho riperso l'aereo, faccio Ma cazzo, ancora Meraviglioso Bellissimo Quinto film, no, che numero solo, guardo Quinto Ah sì, ultimo film, no, ti prego, no Bis, bis, bis Bis, bis Che spontaneo, non saprei, devo improvvisare qualcosa Bene, è scritto qua Allora, prossimo film Ho fatto apposta per la... Perfetto, con questa carica, non devi mollare Cioè, nel senso, un prick Attenzione Attenzione, questo bellissimo Ultimo film L'era glaciale Mi stimo e ti sostengo, perché veramente sei una piazza di un'età Bene, e io avrei finito Vabbè, continuo Attenzione Cioè, faccio un po' specchio riflesso, ve lo dico subito Attenzione Categoria fil d'amore Questo è un po' più difficile, devo dirlo subito, perché entro nel sentimento Quindi, anche per il mondo femminile, insomma Ci vuole un po' più di sensibilità Un film un po' più difficile, un po' più complesso Tendere in primi, in primi complesso Arrivederla Attenzione Categoria fil d'amore Prendi uomo In un secondo Puttana, non ti sposto Perfetto Attenzione Quando le capisci, destra, sinistra, un nero, ok? Perché vederti così è brutto Anche coreograficamente Hai delle belle scapole, ma non fanno rumore Attenzione Secondo film Sì, fanno un altro, ok? Insistete Inserzioni pericolose In un secondo Oh Finito Mi schimo e mi autoapplaudo Benissimo Attenzione Ancora più difficile, ancora più veloce Pensate Due film in uno Velocissimo Difficilissimo Ce la farai? Sì I tre porcellini E i tre moschettieri In uno Fantastico Lo più bello è ridere, caro Attenzione E non mi drogo È così, è bello Cioè, vuol dire Non mi droga No, invece no Buonanotte Benissimo Ultimo film Fantastico Rocky 1 E il vizietto In uno Adriano Tinocchie Premio Sghiana Saudoto 2009 Fabrizio Fabrizio Guantana Che da anni il nostro gente segreto E oggi come oggi Dopo essere lanciato da Zegli È l'inviato speciale Ma molto speciale Di Simona Ventura Grazie ancora Fabrizio Guantana Ok, scusate un attimo Allora è arrivato un momento Anche molto importante Perché vorrei far salire Sul palcoscenico il sindaco Che vuole da me? No, è Fabrizio Guantana Enzo Ceccarelli Dov'è il sindaco? E' lui, hai capito ragazzi Eccolo qua Facciamo un applauso al sindaco Grazie per essere qui Chi dominia? È pericolosa Il mio sbargo di cenere Mio sire Allora Vorrei un attimino Stringiamoci un pochettino Così almeno possiamo fare anche una bella foto Perfetto Così mi va Sghiana Saudoto